Buonasera Milano, video di oggi Sassuolo-Inter. Sassuolo che tradizionalmente è un avversario molto difficile per l'Inter, partita dominata dall'Inter, veramente una grande Inter, che ha giocato finalmente da squadra mettendo davanti il collettivo. Ho visto diversi calciatori sacrificarsi, ho visto unità di intenti, quindi molto bene, poi dopo vi spiegherò nel dettaglio le varie prove di alcuni giocatori che mi hanno colpito in modo positivo e in alcuni casi anche sorpreso. Devo dire anche zittiti quelli che dicevano che l'Inter era assolutamente dipendente alla Lukaku. Ora chiariamo una cosa, Lukaku è importantissimo per l'Inter, però se Sanchez gioca in questo modo, perché alla fine è lui il sostituto di Lukaku in questo caso, se Sanchez gioca in questo modo nessuno sente la mancanza di Lukaku in una partita del genere e non è la prima volta che l'Inter fa bene anche senza Lukaku, quindi non diciamo sciocchezze per cortesia. Grande prova di Darmian? Darmian è uno di quelli che mi hanno sorpreso perché non è che sia un giocatore di grandissima qualità, però è veramente molto applicato, tutto sommato gioca meglio di come ricordassi, perché io comunque sia l'ho visto giocare diverse volte e quindi mi ha sorpreso positivamente. Devo dire che per me Hakimi è più forte di parecchio, però in questo momento è più performante Darmian, quindi ha fatto bene Conte a far giocare Darmian. Male invece chi dice che per la sconfitta con Real Madrid, per esempio, molte colpe vadano ad Hakimi, non diciamo sciocchezze anche qui. Dicevo, bravissimo Sanchez, entrato in campo col coltello tra i denti, ha segnato ancora, sta dando continuità, ricordiamoci che col Torino è stato lui a far cominciare la rimonta dell'Inter, prima col gol del 2 a 1, poi con un assist e anche col Sassuolo grande prova. Mi è piaciuto questo grande impegno, questo lavoro per la squadra, molto bene, molto integrato con Lautaro, veramente sono contento. Avevo visto Barcellona-Inter, quella partita dove abbiamo fatto un primo tempo dominando al no camp la scorsa stagione, un qualcosa di simile, quindi molto molto bene. Poi volevo anche dire un'altra cosa, una nota mia, assurdo sperare che l'Inter perda per far cacciare Conte, per due motivi. Primo, non si tifa contro l'Inter, a meno che non si è anti-interisti, allora, vabbè, gli anti-interisti li capisco. Secondo, Conte non lo cacciano, Conte non lo cacciano per una questione economica. L'Inter ha dei problemi a pagare gli stipendi adesso, come tutti. Figuriamoci se è possibile cambiare allenatore, soprattutto prendendo un altro allenatore da strapagare, tipo Allegri, sentivo che si parlava di Allegri. Anche il discorso della difesa 4, difesa 3, difesa 4. Ho sentito dire da qualcuno, no ma con la difesa 3 nessuno ha vinto, ma nessuno ha vinto cosa? Che l'Ajax ha giocato un sacco di volte col 3-4-3, cioè ha fatto un sacco di anni col 3-4-3 vincendo. Lo stesso Conte, col 3-5-2, ha vinto Scudetti a Torino. Va bene che vincere a Torino è più semplice, però non è questione di difesa 3 o difesa 4, è questione di schierare gli uomini nelle posizioni a loro più congeniali. È normale che se io ho un centravanti e lo metto a fare l'esterno, per dire, a meno che non sia molto utile, darà meno di quello che può dare la sua posizione preferita. Quindi non è questione di difesa 3 o difesa 4. Casomai potremmo parlare del fatto che alcuni giocatori dell'Inter non sono magari adatti alla difesa 3. A questo proposito volevo sottolineare la prova di Skriniar, che è uno di quelli che ha fatto fatica, forse ancora non si è adattato alla difesa 3, però ha fatto veramente una grande partita. Ha fatto un unico errore, un disimpegno, ha fatto ripartire il Sassuolo, abbiamo preso una ripartenza mentre eravamo noi in fase di costruzione, quindi un errore pericoloso. Però veramente una grande prova di Skriniar. Poi a proposito di Darmian, volevo dire che è stato anche aiutato da Vidal, che finalmente ha fatto una buona prova. Anche se ha fatto un tiraccio al limite dell'aria, io pensavo che facesse gol, invece ha svirgolato. Lui che è un tiratore ha avuto un'ottima palla per fare gol. Vabbè, comunque, finalmente buona prova di Vidal, dai. Gagliardini non è un fenomeno, non è diventato un fenomeno neanche dopo questa partita, però ha fatto un gran bel gol e ha fatto una buona prestazione. Benissimo Perisic, che si è adattato a un ruolo non suo, perché Perisic è più un esterno alto del tridente, non è un esterno a tutta fascia. Però grande impegno, grande applicazione, si sta comportando come un professionista, quindi va sottolineata la prestazione di Perisic. Il campionato è apertissimo, anche se i milanisti pensano di averlo già vinto. Campionato è apertissimo. Questa giornata, per il momento, è stata favorevole all'Inter, perché io il video lo sto facendo conoscendo già il risultato della Juve, che ha pareggiato a Benevento. E quindi, che dire, i giochi sono aperti, nessuno ha per ora dimostrato, secondo me, di avere le carte in regola per vincere il campionato, cioè per essere nettamente superiore agli altri. Neanche il Milan, che è primo in classifica, però staremo a vedere. Secondo me i valori verranno fuori e il Milan non è una squadra da scudetto. Comunque questo è il video sulla partita dell'Inter, quindi non voglio neanche star qui a parlare di Milan e Juve. Per concludere, dico che serve continuità, quindi l'Inter dovrebbe cercare di mettere in fila 4-5 partite positive nel gioco e nei risultati. Quella con Real Madrid è stata pessima sia nel gioco che nei risultati. quindi aspettiamo le prossime partite. Facciamo un commento più completo, magari alla fine dell'anno, quando io penso che qualcosa in più riusciremo a capire. Parlo dei valori, parlo della situazione con gli infortuni, coronavirus e questioni varie, insomma. Si sarà delineato un po' meglio il tutto. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi cliccando qui sopra al canale. Se volete qua c'è la playlist delle altri commenti sulle altre partite dell'Inter. Un saluto a tutti, un saluto particolare a Gian Maria che mi sponsorizza sempre. Al prossimo video!